instead of going under instead of going under again prova a mettersi il Venezia qua due, cerca il cross secondo agolo, colpo di testa di Henry, che formi la data che in Venezia, con Tomah Henry, fanno anche a Sanzino al dicianno peso un punto flash arancioneramente ho visto un cazzo, a parte che stavo vedendo stavo leggendo a difesa schierata perché il pallone di Alconuca ha certo bene secondo me è stato valutato male nella traiettoria da Skriniar e poi la stoccata di Henry ha trovato gli va davanti poi gli spila dietro Skriniar si è perso va bene va bene troppo accomodata l'Inter infatti siamo troppo molli ma pure centrale per come stava posizionato il portiere era pure centrale quel tiro sbagliato sbagliato Skriniar ok ancora una volta l'ottimo posizionamento di Taldara mi mi buona insiste Barella non molla Ciccaroni che riesce ad alleggerire ma solo per un attimo è riposto giù con il giocatore del Venezia buona si dai cazzo dai Barellone frega un cazzo dai bello niente non c'è assolutamente nulla non c'è assolutamente nulla perchè sta dovranno prendersi questo questo vantaggio di accrossare in piena velocità la voler c'è nooo nooo oh disperato quasi incredulo quel cazzo di golo perchè quella era una palla da spingere a denti ooo lo cazzo di fare su aviata cioè ma seriamente fra queste ogni volta che fanno un'azione sono pericolosi vabbè contropiede ho capito che contropiede però che cazzo si ma un po' più attenzione su ste palle in profondità così perchè non la non deve chiudere gli ha lasciato troppo spazio gli ha lasciato lo specchio della porta qua o che reghe ricordo con chi sbaglio il ricordo sa che la Sampdoria il parleggiamo uno a uno lo sa non la sa dai su 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 vai di Marco che aspetta solo il fischio di Marchetti che arriva parte di Marco una pure con il coccodrilo è passato è una potente le zerine, è pronto mamma mia la pulizione bravo questa è bella questa ragazza bravo prima partita da oggi da Pelicic non è piaciuta è la prima bravo buona Denzel Denzel che palla di Denzel dai dai le squadre di Davison sempre aggiunti se cazzo mamma mia che palla di Denzel Che palla di Dumfries! Porco Giuda! Che palla! Grande Dumfries! Perché te sta dietro? È da un po' che lo voglio vedere le più! Grande Dzeko! Grande Dzeko! Sì! Vai! Vai! Che sfiga! Questo portiere oggi ha fatto un botto dei barate! Complimenti a Lezzerini! Carca puttana! L'ho chiamato! Che cazzo! Oh tosta eh! Tosta! Ma fino alla fine ci abbiamo creduto! Grande Dzeko! Dai cazzo! Ho sperato anche oggi! Lasciate un like al video! Iscrivetevi al canale! Ama la cazzo!